Oh c'è un altro, c'è dietro un altro Red? Oh c'ho di merda, è uno di vita, c'è quello Guarda, tua madre ha fatto quella put***a il giorno, so perché è un cosa bianca Questo chi è? C'è uno qua, c'è uno qua, c'è uno qua, era un altro star Buono È morto Vado, 333 Vado, andiamo, 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 andiamo... Ah è morto Poi dove? Vado, vado, no cazzo Vado, vado, vado quando lo puoi usci, quando lo puoi usci, vai vai finito? c'è il compagno eh? poi c'è il compagno, poi c'è il compagno che tanto sono 300, vecchio! mamma mia è vero che quando li prendi in te non mi da più il lit mi da soltanto eliminato, però hai fatto 300 300, 300, 600 in tutto io passo 300, 300, 300 vai ormai è una cosa impressionante stiamo augurando ecco qua la dietro, la dietro qua buona arrivano, arrivano, aspetta che arrivano, sono qua da me questo non ho capito buona arriva l'altro là c'è l'altro ok a terra a terra a terra a terra poi dietro eccoli dietro, dietro dietro dietro, dietro a terra ok io ho fatto e quindi sei comunque vado a giocatore gente qua sg vado a vado a bello mamma mia qua se non ci posso dare a meno di tipo 23 e mi sparo tipo 20 kill e vittoria tu guarda che l'hai fatto non lo so tipo 12 io 10, 22 più vittoria recupero dei risultati ritardo da dare a pace a me da ritardo a me argento 1 a me la tua posizione verrà aggiornata automaticamente appena possibile argento 1 sicuramente eliminazione di squadra 22 ma mi sembra troppo poco